Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Qua siamo da XEVAX11 e oggi siamo con il mio pazzesco armadietto Però prima di iniziare SIGLA Bene ragazzi allora oggi andremo a vedere il mio fantastico armadietto Però ovviamente prima di iniziare vi ricordo un bel like e l'iscrizione al canale E ovviamente nel negozio oggetti di Fortnite e il codice creatore XEmanuele97 Mi raccomando che stai facendo un bellissimo contest Quindi mandatemi tutti i video delle vostre shoppate Che vi riposto a tutti Detto ciò ragazzi andiamo a vedere questo shop che è magnifico oggi ragazzi Abbiamo la nuovissima Galaxy Marino Che è un oggetto che non usciva da ben 809 giorni Quindi ragazzi uno shop immenso Mi raccomando il codice creatore XEmanuele97 Detto ciò ragazzi ora andremo a vedere il mio armadietto nel dettaglio Innanzitutto iniziamo dalle nostre bellissime skin dots Guardate quanto sono belle Abbiamo ovviamente lei vampa che non poteva mancare in questo armadietto Se non vado errato 1500 VBAC Poi abbiamo Rubin Queste skin che hanno dato in maniera totalmente gratuita Facendo alcune emissioni Quindi GG per Fortnite Poi abbiamo il pacchetto delle leggende congelate Se non vado errato alla modica cifra di 15 euro Poi abbiamo il Dilianio Thor Che era sempre il pacchetto Che si poteva shoppare a Natale Che appunto ci dava lui Poi ci dava Operazioni Zabbaione Poi ci dava il nostro bellissimo Pesce Secco E l'Elfo Minty Un altro bellissimo pacchetto ragazzi Poi abbiamo proprio lei Loser Fruit La streamer inglese se non vado errato Poi abbiamo Marshmallow Un'altra skin pazzesca ragazzi Io ho tutto il suo kit Poi abbiamo il nostro bellissimo Neymar Junior Che si poteva prendere come skin segreta del Pass Battaglia Poi abbiamo Ninja Bellissima Ninja ragazzi Per chi mi segue da tantissimo tempo Sa che questa skin mi piace tantissimo Poi abbiamo TheGrefg Pure lui streamer spagnolo in questo caso Poi abbiamo Aquaman Skin segreta del Pass Battaglia Della stagione 3 capitolo 2 Se non vado errato Poi abbiamo il nostro bellissimo Batman Zero Corrazzato che ho preso grazie a tutti e sei I fumetti che mi ritrovo appunto a casa ragazzi Se non l'avete già visto ci sono alcuni video nel mio canale Dopo ragazzi andando avanti Abbiamo Corvina Che fa parte anche essa del Pass Battaglia Poi abbiamo il costume film Il Cavaliere Oscuro di Batman Che questa skin è potentissima ragazzi Guardate che fisico che ha Poi abbiamo anche costume fumetto Batman Ma questo qua era sempre un bundle Che si poteva shoppare con soldi reali Poi abbiamo Freccia Verde Della Crew Poi abbiamo Harley Quinn e Rinascita Che appunto l'ho preso tramite un fumetto Poi abbiamo il bundle di Joker Pazzesco ragazzi Che ha stili fighissimi Il nostro Joker Con senza cappello Bellissimo Senza giacca Con giacca Poi abbiamo Poison Ivy Che appunto è nel pacchetto di Joker Poi abbiamo Catwoman Zero Ma guardate quanto è figa ragazzi Questa skin Che cosa gli vorreste dire Poi abbiamo Bandito Psycho Poi abbiamo Kratos Che io ho pergiunto allo stile della PS5 Ragazzi bellissimo Questo stile oro Che lo fa ancora più massiccio di quanto è Poi abbiamo Lara Croft Con il suo stile appunto dorato Con tutti i suoi stili Ragazzi li abbiamo sbloccati davvero davvero Tutti che sono pazzeschi Non so perché mi ha portato in fondo Ottimo Poi ragazzi andando avanti Abbiamo Deadpool skin segreta Del pass battaglia appunto Poi abbiamo il nostro bellissimo Captain America ragazzi Il capitano non poteva mancare In questo armadietto Marvel Bellissima ragazzi Guardate quanto è fiero Proprio massiccio Poi abbiamo Coccolpool Che l'ho shoppato Insieme ad un pacchetto Quello stavolta con WBAC Assieme a Ravenpool Poi abbiamo Daredevil Con il suo stile fumettato Che è bellissimo Anche questa ragazzi Poi andando avanti Abbiamo Dr. Doom Ragazzi che io ce l'ho In tutti gli stili possibili Immaginabili Perché quel pass battaglia Me lo sono macinato ragazzi Chi stava sempre in live Lo sa ragazzi Abbiamo sfondato quel pass battaglia Poi abbiamo Ghost Rider Che ho tutto il suo bundle Anche questa qua Una skin bella Molto stilosa Poi abbiamo Grutto Ovviamente Con tutti i suoi vari stili Ragazzi Che non potevano mancare Poi abbiamo Jennifer Walters Pure lei She Hulk Tutte con tutti i suoi stili Non potevano mancare Poi abbiamo Loki Il dio dell'inganno ragazzi Non poteva mancare nemmeno questo Poi abbiamo Mystique Appunto Ravenpool Che vi ho fatto vedere prima Storm ragazzi È bellissima E poi ovviamente Abbiamo il nostro magnifico Thor Poi abbiamo anche lui Tony Stark L'uomo milionario ragazzi Poi abbiamo Wolverine Poi abbiamo il bombardiere Oscuro Ragazzi Poi abbiamo Squadra speciale Triroci Rapto Pure questa qua Una bellissima skin Poi abbiamo Il Mandaloriano Del pass battaglia Poi abbiamo Allie Sempre della crew Di Fortnite Questa skin Leggendaria Del pass battaglia Questa item E questa pure item Fade Poi abbiamo Frostbite Skin bellissima Stagione 6 Leggendaria Che si poteva Shopare appunto Tramite un pacchetto Poi abbiamo Galaxia Ragazzi Questa skin È stata la prima skin Della crew Pazzesca Bellissima Poi abbiamo Un'altra skin Del pass battaglia Ovvero Joy Poi abbiamo Il supereroe Joltara Poi abbiamo Chimera Appunto di questo Pass battaglia Menace Sempre del pass battaglia Ragazzi Con i suoi Svariati stili Ragazzi Poi andando avanti Abbiamo Mita Ragazzi Questa skin Per me È qualcosa Di troppo forte Ragazzi Perché Te la facendo Che ho iniziato A giocare Quando Appunto preso Mita Ma bellissima Ragazzi Bella 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 Poi abbiamo Il predator Skin segreta Del pass battaglia Pure questa Poi abbiamo Il professionista Delle coccole Anche questa qua Crew di fortnite Poi abbiamo Raz Poi abbiamo 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 Specialista Attrezzatura Maya Questa qua Si poteva Personalizzare Come voi Cavolo Volevate Come si suol dire Ovviamente ragazzi Vi ricordo Se non l'avete Già fatto Un bel like E l'iscrizione Al canale Che sono Fondamentali Ragazzi Per supportarmi Anche questa qua Della crew Di fortnite Poi abbiamo Agente Bananita Pass battaglia Agente Jones Pass battaglia Bananita Sbucciata Bellissima Ragazzi Questa qua Esce sempre Nel periodo Di Halloween Guardate Quanta è Figa Ovviamente Con mezzo Scheletro E mezza Banana Poi abbiamo Bianco Accecante Poi abbiamo Ovviamente Brutus Con tutti I suoi Stili Poi abbiamo Cocote Poi abbiamo Comando di Neve Ragazzi Che si poteva Sbloccare Nel periodo Natalizio Facendo alcune Missioni Deimos Sempre Con la crew Di fortnite Poi abbiamo Doppio giochista Del caos Ragazzi Poi abbiamo Dottoressa Sloan Di questo Pass Battaglia Ovviamente Con tutti I suoi Stili Fendi Frutti Ragazzi Che si poteva Prendere Grazie alla Collaborazione Con Intel Gugimon Sempre Pass Battaglia Ash Doppio giochista Ragazzi Questa qua Me la sono Shoppata Poi abbiamo Jolly Doppio giochista Appunto Shoppata Nel bundle Assieme al Doppio giochista Del caos Johnny Nessi Sub Appunto Una skin Che si poteva Prendere Nel pass Battaglia Poi abbiamo Jules Pure questa Battaglia Condor Kuno Skin shoppabile A 1500 Poi appunto Ragazzi Andando avanti Abbiamo la nostra Lexa Pure questa qua Una bellissima Skin Nella versione Fumettata Perché All'epoca Epic Si era fissato Che doveva fare Queste skin Fumettate Poi abbiamo Anche L'Ambro Sempre una skin Della crew Di Fortnite Lira Appunto Medusa Ragazzi Me la sono Dovuto Shoppare Per forza Questo qua Si doveva Shoppare A pagamento Con soldi reali Mancake Appunto Bass Battaglia A me i pass battaglia Ragazzi Cavolo Ho sbagliato Poi abbiamo Miascolo Sempre pass battaglia Ovviamente Con tutti i suoi stili La ghoul Ragazzi Ci sta per forza Ci deve essere Il mille tedeschio Item con patate Ragazzi Andando avanti Abbiamo un nitro Glicerina Ragazzi Pure questa Non poteva Non mancare Sempre nel pass battaglia Poi abbiamo Oceania Sempre pass battaglia Ombra Ammantata Skin del valore Di 1500 V-back Bella davvero Ries Idem Rick Sanchez Pass battaglia Ronda del campo Ragazzi Ovviamente Con la maglia Della Juventus Non poteva mancare Poi abbiamo Sion Ovviamente Con tutti i suoi stili Ski Sempre Eccola qua Ragazzi Abbiamo i suoi due stili Ci manca Quella oro Perché non siamo arrivati A tutto sto gran livello Poi ragazzi Abbiamo Snake Eyes Ragazzi Non poteva mancare Anche perché L'ho presa Per il suo piccone Che è bellissimo Che dopo andremo a vedere Sanni Tarana Sempre pass battaglia Zeke Pass battaglia Poi abbiamo La bombarola Lucente Ragazzi Bellissima Anch'essa Bruma Ovviamente Non poteva Non esserci Ragazzi Non poteva Poi abbiamo Lui La carpa Assassina Bellissima Poi abbiamo Il centurione E Il classico Bundle Starter pack Poi abbiamo Lui Sempre Starter pack Lei Starter pack E lei Starter pack Poi abbiamo Esperto di munizioni Della stagione Un skin Tra yardissima Ragazzi Il finalizzatore Fino Questa qua Non poteva mancare Con la nazionale Italiana Poi abbiamo Giacca gialla Sempre Starter pack Hens Diamante Ovviamente Anche lui 1200 V-Buck Shop Da subito Incursore Dal naso rosso Skin shop Nel periodo Natalizio Poi abbiamo Incursore Pandi Zenzero Invernella Ragazzi Sempre 1200 V-Buck Iris Starter pack Milite Della festa 1200 V-Buck E lo shop Perché all'epoca C'era L'evento Di J Balvin Se non Va Errato Quindi ovviamente Ho tutti I suoi stili Perché ho partecipato Al concerto Poi abbiamo Ovviamente L'elfo Minti Come vi ho fatto Vedere prima Pattugliatore Di zona Collaborazione Con playstation Poi abbiamo Patti cuore Sirena Ovviamente Ragazzi Skin Trajardissima Da 1200 V-Buck Che hanno In tantissime persone Sogno Una skin Sottovalutata Ma davvero Davvero Bella Poi abbiamo Squadra Brina Che era Sempre Prendibile Nel periodo Natalizio Facendo alcune Missioni Poi abbiamo Strega Surf Ragazzi Pure questa qua Da shoppare Immediatamente Perché Trajard Power 3000 Proprio Poi Artiliere Bruto Questa skin Da 800 V-Buck Per me È pazzesca Perché per 800 V-Buck È una skin Ben definita Bella 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 Poi abbiamo Aura Ovviamente Per il più Trajardini Poi abbiamo Birdy Ovviamente Palla in buca Stagione 8 Pure questa qua Non si può Non avere Poi abbiamo Cristallo Ovviamente Screen Tryhardtissima Cristallo Sub Da avere Obbligatoriamente E infine Scatenata Detto ciò ragazzi Contate quante skin Sono Così me lo fate Sapere Ragazzi Perché manco Io lo so Devo essere Sincero Ora Facciamo Una piccola Occhiata Veloce Perché Bene o male Vedendo Le skin Sapete Quali Backpack Vi faccio Vedere Quelli Che io Insomma Preferisco Ovvero Questo qua Piromane Di Vampa Per me È bellissimo Un altro Bello È lo Scudo Rosso Congelato Ragazzi Bello 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 Le sfere Del potere Sono Fighissime Perché Quando Kill Lui Appunto Diventa Sempre Più Rosso De Graf Che Queste Palle Incominciano A esplodere A mandare Fulmini Bello Bello Quello Di Neymar Non è che Mi piace Impazzire Mi piace Molto Il mantello Di Batman E Ovviamente Mimir Il backpack Del nostro Bellissimo Kratos Poi Andando avanti Ragazzi Un altro Backpack Che Mi piace È quello Di Loki Anche Questo qua È molto Ben Definito Ragazzi Poi Andando avanti Ragazzi Abbiamo Quest'altro Legendario Questi qua Sono i miei Legendari Un altro Bello È quello Della Prima Crew Di Fortinet Appunto Galassia Pure Questo qua Molto Try Harder Power Un altro Bello È pesce Secco Junkie Fighissimo Il backpack Di Medusa Mi piace Pure Perché C'è Questo Jones Immobilizzato Anzi La testa Per essere Precis Questo È del Pattugliatore Pan Di Zenzero Questo qua Era Per Il Compleanno Di Fortnite Mi Ricordo Mi Pare Questo È Dell'elfo Minty Anche Molto Bello 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 E Germoglio Di Solo E Molto Try Harder Power Da Mettere Assieme Ad Aura Ragazzi Per chi Vuole Il Consiglio Poi Ragazzi Andiamo Ai Picconi Anche Se Non Sono Tantissimi Andiamo A Vedere I Miei Preferiti Ovviamente Quali Possono Essere Quello Di Harley Queen Ragazzi Non C'è Nemmeno Da Dire E Chiedere Bellissimo Un Altro Bello È Quello Di Marshmello Perché Suona Ad Ogni Suo Colpo Ha Proprio Un Bel Sound Come State Sentendo Poi Andando Avanti È Bellino Anche Quello Di Aquaman Il Tridente Di Aquaman Molto Molto Bello Ma Anche Quello Di Kratos Che Si Congela Quando Tu Vai E Colpisci Qualsiasi Cosa È Bello Pure Quello Di Loki A Dire Il Vero Quello Di Captain America Il Suo Backpack Che Lo Bello Anche Quello Di Iron Man È Molto Figo Un Altro Che Mi Piace Pare Che Lascia Di Caramella Comprabile Sempre Nel Periodo Di Dicembre Appunto Natalizio Quello Di Snake AS Ragazzi Perché Ho Preso Snake AS Perché Volevo Il Freddo Perché Ha Un Bell Sound Molto Molto Rilassante I Picconi Li Preferisco Sempre Uno Quindi Vi Faccio Vedere Quelli Che A Me Piacciono Di Più Falcistrello Un Altro Piccone Bellissimo Stagione 1 Poi Ragazzi Andiamo Avanti E Abbiamo Ovviamente Il Mietitore Che Non Poteva Mancare Ragazzi Non Poteva Mancare Bellissimo Mi Forza Rompighiaccio Item Con Patate Ragazzi Non Poteva Mancare Nel Mermadietto E Poi C'è Vecchio Scarpone Pure Questo Qua Bellissimo 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 Poi Ragazzi Andiamo Avanti I Delta Plani Ne Ho Davvero Davvero Pochi Quindi Non Ve li Faccio Vedere Più Di Tanto Vi Do Una Piccola Occhiata È Perché Ha Questo Mega Uccellone Bello 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 Davvero Anche Questa Qua Di Insomma Surf Figo Che Si Poteva Prendere Proprio In Questa Season Ragazzi Andate Avanti Non è Che Ho Così Tanti Picconi Quindi Non Mi Metto Neanche A Farvi Rivedere Le Scie Ne ho Poche 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 Perché Non Mi Sono Interessate Ragazzi Preferisco Le Skin Da E Qua Passiamo Ai Balletti I Balletti Ne ho Davvero Davvero Tanti Tra Regalati Appunto Un Casino Come Le Skin Ovviamente Però Sono Bellissimi Davvero Ne ho Tantissimi Ho Quello Di Appunto Questo Qua Di J Balvin Quello Di Ninja The Grav Ne ho Davvero Davvero La Macarena Mi Tanti Quindi Ve Ne Faccio Vedere Alcuno Ovviamente Non Potete Sentire La Musica Perché Sono Tutti Con Copyright Purtroppo Ragazzi Per Noi Streamer Non Possiamo Far Sentire I Balli So Qua Di Flash Poi Qua Ci Sono Le Letto Vabbè Dopo Lo Vado Di Nuo A Modificare Ammirate Molto Figo Poi C'è Il Cartellino Rosso Il Cante Insieme Ragazzi Quello Che Sta Il Telefono Fine 2020 Ne ho Veramente Così Tanti Ragazzi Che Perderemmo Così Tanto Tempo Che Inutile Che Che Ve Li Faccio Vedere C'è Questo Qua Che Annotato Per Quelli Della Crew Quello Che Piange Mobile Fighissimo Schipper A dire Il Vero Squadra Spaziale Ne ho Ragazzi Davvero Così Tanti Che È Inutile Che Mi Soffermo Per Ogni Cosa Detto Ciò Ragazzi Questo È Il Armadietto Qua Ci Sono Le Coperture Che Ovviamente Sono Il Numero Giusto Perché Neanche Per Queste Scopasso Devo Essere Sincero Le Varie Musiche Che Non Vi Faccio Vedere Perché Appunto Le Ho Bloccate Quindi Non Ha Senso Non Le Ho Mai Shoppate Proprio Per Questo Motivo E Ci Sono Le Imagine Di Caricamento Detto Ciò Ragazzi Questo È Il Il Fantastico Armadietto Spero Che Vi Sia Piaciuto Sono Curioso Se Riuscite A Contare Quante Schin No Scrivetemelo Nei Pari Commenti Vi Ricordo Se Ci Vediamo Ad Un Prossimo Video Ciao Ragazzi Sì Sì